Allora, quarta elementare, fanno 500 metri, va bene, sarà un giro piccolo, partiranno alle 11.10, va bene, alle 11.20, però 10-15 minuti prima ci troviamo qui, 11.30 partono gli esordenti, esordenti maschile, va bene, e quindi sapete 10 minuti prima essere qui, avete l'orologio! Alla partenza, ripeto, allievi, junior, promesse, senior e master 35, ultimo appello. Allora, 2003 e 2004, ti porti via la partenza, perfetto, andate con il signore, ecco la... Bravo, bravi, 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 bravi. Forza Patrizia, piano piano. 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 Forza Patrizia, piano piano.